Come ogni cosa nulla è facile, ogni percorso è tortuoso, ma bisogna comunque iniziarlo sempre. Oggi è un momento importante perché abbiamo incontrato le istituzioni locali che sono il primo imprinting, coloro i quali sanno con coscienza e con contezza quali sono le problematiche di quest'isola. Oggi bisogna insieme continuare a portare avanti il lavoro che è stato fatto. Il lavoro che è stato fatto anche dal commissario di governo è stato un lavoro eccezionale. Ci troviamo soltanto in questo momento ad affrontare l'ultima parte, la parte della ricostruzione. La ricostruzione va fatta insieme. Abbiamo dalle sollecitazioni dei sindaci rinnovato il parco del personale a disposizione per la ricostruzione che servirà ad accelerare quella parte mancante del progetto post ricostruzione terremoto. Quindi oggi siamo qui per accogliere ulteriori stanze, cioè quello che resta ancora da fare per questo territorio. Certamente Ischia non è diversa da tante altre regioni che hanno subito il terremoto, bisogna equipararla e noi siamo qui oggi con la nostra presenza a dare le giuste risposte per il futuro di quest'isola. Oggi il momento importante che affronteremo a breve sarà appunto quello di Procida Capitale della Cultura. Ciò che significa? Significa dare supporto a questa terra, ma soprattutto sinergia all'area flegrea, che deve lavorare in funzione di Procida Capitale della Cultura. E deve, e noi come Governo e Parlamento, dobbiamo dare una risposta concreta con fondi strutturali per lasciare qualcosa di perenne e non qualcosa di temporaneo che poi nel tempo va pian piano a scomparire. Ultimamente si è interessato anche della tragedia degli abbattimenti che in Campania vede piangere e distruggere migliaia di famiglie. Si sperava in uno stop ruspe, almeno per quanto riguarda il Covid, e poi trovare una soluzione, ma a quanto pare c'è stato un nuovo nulla di fatto. Abbiamo sottoposto appunto l'emendamento che chiedeva la sospensione temporanea fino a dicembre. L'emendamento è stato depositato, adesso è al vaglio del Governo per dare una risposta in merito alla fattibilità. Il Parlamento è consapevole della problematica, noi ci siamo, attendiamo la risposta del Governo per dare così un po' di spazio fino a dicembre. Quali dovrebbero essere i temi? Io credo che la tempistica si aggiri nell'arco di 20 giorni, avremo certamente una risposta dal Governo per questa tematica. È evidente che purtroppo da 12 anni a questa parte vanno giù solo case di necessità, è mai la grossa speculazione di inizio affaristica che ha distrutto costo e colline. Questo dovrebbe pesare moralmente anche sulla politica e trovare una soluzione. Pesa moralmente, ma bisogna capire poi nel concreto lì dove c'è questa accelerazione. Molte volte è una visione singolare di un percorso che si accelera verso altre realtà. Ma il lavoro della Procura e della Magistratura è quello di procedere a 360 gradi. Però questo non vuol dire che stiamo condonando o stiamo sanando chi ha commesso degli illeciti.